Ben trovati dalla redazione di Telebari, apriamo con la politica e torniamo a parlare delle primarie del centro-sinistra per le regionali. Nichi Vendola scioglierà le riserve lunedì, ma la candidatura di Dario Stefano cambia le carte in tavola e apre la corsa ad altri concorrenti. Il punto nel servizio di Silvia Di Pinto. Il tempo è maturo. Se Nichi Vendola non si candida, come è nei fatti anticipato Dario Stefano, allora si apre tutto un altro scenario. Parla solo a microfoni spenti l'assessore regionale Guglielmo Minervini. Siamo a un punto di svolta, ammette. Nelle prossime ore deciderò se partecipare alle primarie di centro-sinistra e l'annuncio arriverà in settimana. La fuga in avanti di Dario Stefano, senatore di Sinistra e Libertà, che ieri ha presentato la sua candidatura alle primarie di novembre, cambia le carte in tavola e libera spazi di agibilità politica. Quando sembra ormai archiviata la minaccia di Elena Gentile, un altro nome arriva dunque a sfidare Michele Emiliano all'interno del Partito Democratico. E' più di una tentazione, infatti, quella di Guglielmo Minervini. L'assessore regionale prende ancora qualche giorno di tempo e aspetta che lunedì Nichi Vendola sciolga le riserve. Il governatore parlerà in apertura della direzione di Sinistra e Libertà, sebbene, commenta oggi Minervini, la candidatura di Dario Stefano ci ha già detto in maniera irrituale che Vendola non parteciperà alle primarie. E allora il segretario del PD Michele Emiliano potrebbe doversela vedere con Stefano e Minervini, due pezzi da 90, due protagonisti del vendolismo pugliese, pronti a fare le barricate contro chi vuole distruggere l'immagine di dieci anni di governo della cosiddetta Puglia migliore. Ancora verso le primarie l'area civatiana chiede regole chiare e semplici e soprattutto un'ampia partecipazione per contrastare la leadership di Emiliano. Sentiamo l'intervista al democratico Enrico Fusco, Alessandra Bucci. C'è l'area civatiana che propone un documento con una proposta ben precisa per la nuova legge elettorale. Sì, dare seguito al 50 e 50, quella proposta di legge regionale che il Consiglio regionale con una mossa risibile, sarà moderato, non userò l'aggettivo che mi viene in mente, venne bocciata qualche mese fa. E quindi dare corso a quel lavoro fatto, a centinaia di firme raccolte per imporre la doppia preferenza anche nella legge elettorale regionale. Una doppia preferenza che sia obbligatoria per evitare poi giochetti come quelli che ci sono stati alle ultime comunali. C'è invece un dibattito, quello sulle primarie per individuazione del candidato alla presidenza della regione Puglia, un dibattito che sta diventando un po' aspro. Questo rischia di creare ennesime spaccature nel Partito Democratico e soprattutto se condividete in pieno il regolamento che sta venendo fuori da questo dibattito. Mi sembra che ci siano troppe firme da raccogliere, mi sembra che si voglia lasciare il manovratore in pace, che non si voglia consentire la partecipazione alle primarie di altri personaggi regionali che potrebbero competere la candidatura alla presidenza della regione. Per cui noi siamo per la semplificazione di quel regolamento. L'ideale sarebbe anche studiare finalmente una modalità per evitare l'assalto alla dirigenza e quindi impedire che gente di destra vada a votare per quello che sarà il candidato alla presidenza della regione per il centro-sinistra. Noi siamo per che le regole siano semplici e chiare e non tortuose, fatte apposta magari per impedire una partecipazione quanto più ampia possibile. Messo ai test di medicina il TAR accoglie i ricorsi. 2.000 esclusi potranno così iscriversi alle facoltà. Oltre 2.000 ragazzi che avevano partecipato ai test d'ingresso alle facoltà di medicina, veterinari, odontoiatria, architettura in varie tenei italiane sono stati ammessi con riserva dal TAR del Lazio. I giudici hanno dichiarato il legittimo. Il concorso di medicina 2014-2015 hanno stabilito la missione e il sovrannumero di tutti i ricorrenti patrocinati. 19 luglio 1992 in via D'Amelio perdevano la vita il procuratore aggiunto a Palermo Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Questa mattina nel 22esimo anniversario della loro scomparsa la deposizione della corona dall'oro da parte delle istituzioni. Vediamo. Quell'autobomba ha ucciso Paolo Borsellino, Vincenzo Catalano, Emanuele Aloi, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina e Claudio Traina. Ci tenevo a ricordarli tutti. Quell'orribile strage ha ucciso quelle persone, ha ucciso servitori dello Staso, però non ha ucciso le idee di quelle persone. 19 luglio 1992, via D'Amelio, una di quelle ferite che non si rimarginano mai. A soli due mesi da un'altra tragica strage, quella in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, la morte di Paolo Borsellino, all'epoca procuratore aggiunto a Palermo e dei suoi uomini, continua a bruciare con la stessa intensità di 22 anni fa. Una piaga che sanguina oggi come allora, ma che serve a ricordarci ogni giorno che siamo vivi e che la mafia deve essere combattuta. Questa mattina nella via che porta il nome dei due giudici antimafia, la deposizione della corona alla presenza delle istituzioni. Subito dopo la consegna dell'agenda rossa al sindaco De Caro. Paolo Borsellino diceva, nella lotta alla mafia il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. E ci spostiamo a Molfetta dove i finanzieri di Molfetta e di Bari e il personale dell'ASL nell'ambito di una vasta attività di controllo a tutela dei consumatori dei mercati ittici hanno accertato il pessimo stato di conservazione di oltre un quintale di prodotti ittici e l'utilizzo di bilance non conformi. Cinque le persone denunciate a Molfetta sequestrati e distrutti oltre un quintale di prodotti ittici. E a pochi giorni dalla sparatoria in pieno centro i commercianti del borgo Murattiano stretti nella morsa della paura chiedono aiuto alle istituzioni. Vediamo. È successo proprio lì fuori al nostro negozio uno scippo in pieno giorno ai danni di due donne. È storia di ordinaria amministrazione nel centro baresa in quello che viene ancora definito il salotto buono della città ma che di buono ormai ha veramente poco. A raccontarci il triste aneddoto due giovani imprenditrici titolari di un negozio in via Principe Amedeo piccoli furti, scippie e vere e proprie rapine. È ad un clima già abbastanza teso negli ultimi giorni ancora una volta quella sensazione di totale impotenza perché si è tornati a sparare per le vie del centro tra la gente. Più controlli, più presidi. I commercianti lanciano un appello alla nuova amministrazione. Intanto il prossimo 1 agosto si insedierà Antonio De Jesu, il nuovo questore reggente di Bari. Si torna a sparare in centro. Voi come commercianti come state vivendo questa situazione? Soprattutto vi sentite tutelati dalle forze dell'ordine oppure no? No, non ci sentiamo tutelati perché comunque noi abbiamo un'attività e siamo tutte donne e la sera qua alle 8 già non cammina più nessuno. Non è giusto che siamo costrette a dover chiudere le serrande per portefare i conti ma che siano le 4 del pomeriggio, le 11 di mattina non si vede camminare un agente, una pattuglia. Ma ripeto, il problema principale è la sera, ma anche quando usciamo. Io se sto a casa e sento gridare, frenate, malviventi, cose, le magari uscite. Sono sempre col patema d'animo, con l'ansia di dire quando torni, quando non torni perché non si può camminare in centro. Polizia e carabinieri non se ne vedono tanti, neanche di giorno, immagino di sera. Qui si vedono solo ausiliari e vigili. Il problema è pesante, ma è pesante anche perché secondo me c'è un problema di crisi sempre e quindi le persone non sanno più che cosa fare. Sicuri non ci possiamo sentire sicuri, nel senso che in centro sicuramente si vive bene. Non mi posso lamentare. Però effettivamente, qualora dovesse succedere qualcosa, io avrei serie difficoltà a trovare un poliziotto. E anche quando mi è capitato di chiamarli, alle volte non sono venuti. Cambiamo argomento e parliamo dell'estate. Tempo di partenza e la polizia stradale diffonde il Vademecum per la guida sicura con un'attenzione particolare alla prevenzione delle truffe, visto che non sono mancati episodi anche a Bari. Silvia Dipinto. Controllare la pressione degli pneumatici non surriscaldati, verificare lo stato di usura del battistrada e la bilanciatura delle gomme, guidare in osservanza dell'indice di carico e velocità e soprattutto occhio alle spiacevoli sorprese. Quando il traffico non è ancora ufficialmente da bollino rosso, ma la tangenziale di Bari registra già code e rallentamenti, la polizia stradale diffonde il Vademecum con i consigli utili per i viaggiatori. Si parte dalla base. La pressione del battistrada non deve essere inferiore a 1,6 mm. La ruota va sostituita quando lo spessore scende a 3 mm. Il ruotino di scorta poi deve essere tenuto a pressione più alta rispetto a quella degli altri pneumatici, come prevede la legge e le regole della strada. E garantire la sicurezza dei viaggiatori significa anche prevenire le truffe su strada che non risparmiano il capoluogo pugliese. Solo lo scorso giovedì un uomo è stato fermato in tangenziale allo svincolo di Poggio Franco da due individui che pretendevano denaro come risarcimento per un presunto danno alla loro automobile. Ci accontentiamo di 100 euro per risolvere bonariamente la questione, hanno detto alla vittima della truffa che, intimorita dalle circostanze, ha pagato la cifra richiesta. Denunciate subito alle forze dell'ordine e l'invito oggi della polizia stradale che ha intensificato i controlli, proprio a partire dalla tangenziale. Dovrebbero riaprire al traffico giovedì mattina via Gentile. Stanno per concludersi i lavori di rifacimento della Fogna a Sicura Palazzo di Città. Nel weekend saranno effettuate le verifiche sulla pressione nella nuova condotta formata da 5 elementi lunghi, 12 metri ciascuno. Lunedì sarà ultimata la verifica su eventuali perdite e giovedì dovrebbe essere chiuso lo scavo. Contestualmente l'acquedotto procederà con la pulizia dei campi limitrofi al cantiere dove si sono accumulati fango e scarti della Fogna. Cambiamo argomento, una notte dedicata a tutti i bimbi. Bari Vecchia ieri sera allestita a festa per Gioca la Luna e Gioca la Muraglia. L'iniziativa promossa dal Comune di Bari e realizzata dalla cooperativa sociale Progetto Città. La Muraglia nella città vecchia è diventata scenario di giochi, teatro di strada, laboratori creativi e manipolativi dedicati a tutti i bambini e gli adolescenti e alle famiglie. Per l'occasione l'intero percorso è stato illuminato da 2000 lanternine di cartone. Gioca la Luna, ha commentato l'assessore al welfare Francesca Bottalico, è stata occasione per continuare a costruire insieme il senso di comunità e garantire una migliore qualità della vita, a cominciare dai nuclei familiari. Presentato questa mattina nel ritiro di Pieve di Cadore, l'attaccante Giuseppe De Luca, prelevato in prestito dall'Atalanta. Sentiamo le due prime dichiarazioni da neo-giocatore Biancorosso. Diciamo che sono venuto qua per dare continuità, perché comunque sono un giocatore che ha sempre voglia di giocare, quindi lì non avrei trovato lo spazio che avrei voluto e comunque scendere di categoria sicuramente non mi pesa, anzi sono venuto in una piazza che è più da serie B e da serie A, quindi penso che la cosa più importante sia scendere in campo partita dopo partita e realizzare un sogno che questa città se lo merita. Come ti immagini nel nuovo Bari? Una squadra molto offensiva, galano, esterno, con comunque Stojan, Ducca, Butto in attacco, si pronuncia comunque un Bari spettacolare. Diciamo che le aspettative ci sono, quindi abbiamo appena iniziato, penso che quest'anno con questo Bari qua ci saranno altri giocatori che comunque penso che arriveranno, quindi ci sarà da divertirsi. E hanno raggiunto il ritiro di Pieve di Cadore anche il presidente Gianluca Paparesta e il direttore sportifo Stefano Antonelli che nei prossimi giorni potrebbe concludere gli acquisti di Chiosa, Stefanovic e Gazzi dal Torino. Questo pomeriggio intanto primo test amichevole per la squadra bianco-rossa contro una rappresentativa locale. E adesso scopriamo che tempo farà con il colonnello Vito Antonio Laricchia. Bene, è un weekend all'insegna del bel tempo, è un mese di luglio abbastanza difficile, con condizioni meteo in fasi alternative anche avversa. Primo di godiamoci questo bello sabato e domenica, grazie anche all'amico maestrale che ha allontanato i corpi nuvolosi della settimana ultima scorsa, quindi ancora vento per quanto riguarda la giornata di oggi, nel complesso il cielo è il seno è poco nuvoloso, si può stare senz'altro al mare, purtroppo i mari saranno molto mossi o agitate, specialmente il basso adriatico è in Cana d'Otranto. Nessun problema sulla fascia ionica, ha le temperature piacevoli, non oltre i 30-31 gradi. Domani, domenica, si attenua il vento di maestrale, cominciano ad arrivare delle nubi, ma questa è una cosa che interessa per chi altro, coloro che faranno le gite fuori porta nelle zone interne, ma nel complesso un bellissimo fine settimana. E per questa edizione è tutto, io vi ricordo come sempre i nostri indirizzi internet www.telebari.it, radiobari.net, infochiocciola ilsegnodizorro.it Grazie per essere stati con noi e a più tardi. Grazie a tutti.